Salve, di base sono Moro Simonetti e Omori mi ha molto molto sorpreso. Prima di tutto vorrei dire che in questo video non ci sarà nessun tipo di spoiler, voglio cercare di parlare nella maniera più generica possibile, in maniera tale che chi sa alcune cose specifiche a cui mi sto riferendo dirà ah ok ho capito, ma chi non le sa invece potrà almeno essere intrigato, spero, da quello che sto dicendo, per andare poi a scoprire l'esperienza lui stesso. E prima di iniziare il video vorrei ringraziare DavideCarta.Straccia per aver realizzato la thumbnail di questo video e gli ultimi 20 secondi, riscoprirete solo la fine, a meno che non ne schippate adesso e vedete solo gli ultimi 20 secondi, e quindi grazie, seguitelo sui suoi socials. Cos'è Omori? Omori è un videogioco, uscito il 25 dicembre 2020. Io stesso l'ho conosciuto in questo modo, credendo che la cosa finisse qui. Invece la storia di Omori come videogioco risale al 21 aprile 2014, quando la sua autrice, chiamata Omoket, inizia una campagna su Kickstarter, chiedendo 22.000 dollari per portare a compimento la sua visione. Ho voluto sottolineare come videogioco perché in realtà Omori come personaggio ha una vita editoriale ancora più lunga, nato come webcomic da parte della stessa autrice addirittura nel dicembre del 2011. Tutto questo per far capire che il personaggio aveva già un'identità molto forte, oltre che già un discreto successo, anche se questo non vuol dire assolutamente che questo videogioco sia campato di rendita. Il trailer associato alla campagna Kickstarter è indubbiamente già molto particolare, immediatamente accattivante. L'alternarsi di grafica classica da RPG, chiaramente realizzata tramite RPG Maker, con immagini di tipo analogico, che si tratti di animazioni marcatamente fatte a mano o fotografie di oggetti dal vero, compresse ed editate a tal punto da sembrare anche i loro disegni, ma dall'effetto finale molto più estraneante. Impossibile non menzionare anche la musica di sottofondo, My Time di Bo-Hen. Insomma, il gioco sembra avere già una personalità estremamente decisa, un tono a metà tra il sognante e il pauroso, e tutto ciò fa immediatamente presa sul pubblico, sia chi era già familiare col personaggio, sia i curiosi dell'ultima ora. In questo modo, Omori ottiene più di 200.000 dollari a fronte dei 22.000 iniziali, e la lavorazione ha inizio, con una data di uscita indicativa fissata per il 2015. Da questo punto in poi, le notizie iniziano a diventare abbastanza scarse, gli aggiornamenti si fanno sempre più radi, e giustamente le persone diventano sempre più arrabbiate, perché giustamente sono stati soldi dati per questo progetto. Dopo un po', la rabbia è diventata giustamente frustrazione, ma a un certo punto la frustrazione è diventata semplicemente rassegnazione. Questo progetto sembrava non voler più vedere la luce. Passano letteralmente 5 anni. Siamo a novembre 2020, quando improvvisamente... A quanto pare, Omori è tornato. È un pochino diverso dal primo trailer presentato, ma gli elementi sono tutti lì, un po' più rifiniti. Il sogno, l'incubo, l'estetica infantile, quel misto di nostalgia e mistero. E, a quanto pare, ha anche una data di uscita ufficiale, 25 dicembre 2020. E, alla fine, Omori fu. Io, sinceramente, ecco, prendo come esempio il caso di Cyberpunk, un gioco con un tempo di sviluppo molto lungo, che è uscito e non ha per niente soddisfatto i suoi fan. Omori, che ovviamente è in una classe completamente differente, soprattutto a livello di budget, io credo che raramente un videogioco dalla produzione così travaiata e controversa sia stato così velocemente perdonato e amato alla follia da tutti i suoi fan. Abbiamo già parlato dello stile, a cui i trailer fondamentalmente già ci avevano abituato, e potrete vedere anche voi a schermo di cosa sto parlando. Ma, di base... Sono Mauro Siconetti. Ah, no. Di base, cos'è Omori? Omori può essere inteso come un RPG barra horror psicologico. Il sistema di combattimento è mediamente RPG. Mediamente nel senso che è a turni, quindi come tanti RPG che già abbiamo visto, ma ha una particolarità, ovvero il fatto di usare le emozioni. Felice, triste e arrabbiato sono tre status che possono essere dati al nostro team oppure inflitti al nemico. Questi tre status si interfacciano tra di loro in una sorta di carta sassofortice, e quindi appunto noi potremmo giocare attraverso il dare a noi un'emozione e al nemico un'altra per avere determinati bonus. Ovviamente ci saranno anche dei malus, ma appunto il gioco sta proprio in questo, ovvero nel bilanciare questi vari status e nello sperimentare. Un'altra particolarità è una barra che possiamo trovare in basso che può essere riempita subendo dei colpi e che potremmo usare sia per realizzare degli attacchi in coppia tra i personaggi, che saranno attacchi singoli e specifici per ogni singola coppia, così come riempiendoli invece al massimo, ovvero fino a dieci, realizzare invece un attacco di gruppo in quattro con cui infergere, non vuol dire questa la parola, infliggere il massimo numero di danni. Tra l'altro, una cosa molto divertente, quando uno dei nostri personaggi sarà messo KO, diventerà un toast. Questo non ha senso in italiano, perché in inglese, to be toast vuol dire essere... è un po' simile al nostro italiano essere fritto fondamentalmente e quindi qui letteralmente diventi un toast e per riacquisire vita tu devi usare la marmellata da spalmare quindi sul toast. È una cosa che mi fa molto ridere. In italiano avrebbe senso se tu diventassi un panzerotto e niente, sarebbe molto molto divertente questa cosa. Tra un combattimento e l'altro, ovviamente si esplora. Esploreremo questo mondo molto vasto e molto molto colorato, popolato di tanti di questi personaggi molto molto pittoreschi, con cui ovviamente possiamo parlare, possiamo interagire, eccetera eccetera. Ognuno dei nostri personaggi avrà inoltre un'abilità in particolare con cui riuscire a esplorare ancora di più questo mondo, magari sbloccare determinate cose e il bello è che è una cosa anche molto positiva di questo gioco. Il gioco è molto bravo nel riuscire a dare ai personaggi delle abilità specifiche molto collegate a quella che è la loro personalità. Noi infatti durante il gioco impareremo a conoscerli fondamentalmente e in base al modo in cui noi li conosciamo noi possiamo supporre le loro abilità, cose che molto spesso non ci vengono neanche direttamente spiegate. Ad esempio, ho detto prima, gli attacchi da usare in coppia. Cioè noi dobbiamo, in base a quello che è il rapporto tra questi due personaggi, noi possiamo supporre il modo in cui questi due attacchi possono combinarsi tra di loro e quindi fare più o meno danni in base alla coppia che noi andremo a utilizzare. Come ho detto prima, ci saranno ovviamente anche dei dialoghi con questi vari personaggi in una maniera molto simile a, io dirò, Undertale. Undertale in realtà però è un esempio sbagliato visto che Undertale è uscito nel 2015 e questo gioco stesso sarebbe dovuto uscire nel 2015. Quindi, ecco, è sbagliato dare un paragone tra questi due giochi che fondamentalmente sono nati in contemporanea in un certo senso. Però in realtà il paragone esatto sarebbe da fare con Earthbound a cui entrambi i giochi si ispirano. Ma Earthbound purtroppo io stesso ancora non ho avuto modo di giocarci quindi non saprei dare un parere effettivo da questo punto di vista. Quindi prenderò Undertale anche perché è come un esempio molto più anche recente e quindi più comprensibile probabilmente. Qui avrei già un piccolissimo punto di critica verso Mori, ovvero il fatto che molto spesso da questi dialoghi noi abbiamo un'idea dei personaggi che in realtà è molto generica. In che senso? i personaggi con cui ci interfacciamo e quelli del nostro team soprattutto sembrano più tipi di personaggi ad esempio il fratello grande comprensivo il fratello piccolo quello magari un po' più canaglia la ragazza un po' più piperina credo di non aver mai usato la parola piperina fino a oggi. Quindi ecco, non ci danno forse delle idee di personaggi più di tanto approfonditi in questo particolare caso anche se su questo specifico aspetto ci torneremo dopo. A questo punto potreste chiedervi dove cazzo è l'elemento horror? Io ho detto che questo è un RPG barra horror psicologico tutto quello che ho detto non mi sembra fare particolarmente paura. Questo perché ho parlato solo di quella che è la prima metà di Omori. La seconda metà di Omori che forse è anche quella più interessante da questo punto di vista è la storia di apparentemente un'altra persona Sunny o un personaggio che noi possiamo in realtà chiamare come vogliamo io ovviamente l'ho chiamato Mauro tra l'altro storia divertente io l'ho chiamato Mauro con la M maiuscolo e Auro scritto in piccolo però in realtà tutti i personaggi del gioco sono scritti con tutte le lettere maiuscole quindi ero l'unico personaggio sfigato tutti erano Omori Mary Hero poi c'era Mauro e quindi niente era divertente questa cosa probabilmente è divertente solo per me ma mi basta. Questo secondo mondo è un mondo molto più realistico rispetto a quello che abbiamo visto finora e questo e il mondo sognante tra virgolette che è il primo che abbiamo incontrato sono estremamente collegati ovviamente la trama di Omori sta proprio nello scoprire come questi due mondi si collegano e come l'uno riesce ad avere effetti sull'altro inoltre ecco l'elemento horror dopo aver visto il mostrazzo magari scopriamo cose nuove oh mio dio e ecco anche da questo punto di vista in realtà chiamare Omori un horror non è completamente giusto l'elemento horror rappresenta forse il 20% di quella che è tutta l'esperienza almeno per quanto riguarda la trama principale ma forse proprio per questo dato che appunto gli elementi horror sono così sparsi e quando ci sono colpiscono così forte forse proprio per questo fanno ancora più impressione tu sai che sta arrivando non sai esattamente come non sai esattamente quando ma sai che prima o poi tra l'altro parlo dal mio punto di vista io per primo mi calco molto facilmente sotto e ci sono un paio di immagini in particolare di Omori che ancora sono bruciate nella mia memoria e mi tormentano nel sonno però questo parlo con te Omoket e col team c'erano un paio di punti in cui mi veniva quasi da dire cazzo ci potevi secondo me qui ci potevi andare ancora più duro cioè magari non dico un suono improvviso perché effettivamente questo gioco non ha nessun tipo di jumpscare nel senso classico e di questo sono molto molto grato però appunto c'erano un paio di immagini che potevano essere rese ancora ancora peggio io faccio il gesto del coltello del rigelare il coltello nella piaga capitemi e ovviamente questa è puramente una cosa personale però inoltre parliamo di un'altra cosa di cui non sono ancora riuscito a parlare ovvero la colonna sonora composta da Pedro Silva Gemilin e Bohen avrò probabilmente sbagliato pronunce di tutti quindi vi chiedo molto molto scusa tra l'altro cosa divertente la colonna sonora l'album che comprende tutte le canzoni dura quattro ore e il gioco ne dura una ventina nella sua campagna principale e è molto è molto in omori c'è un casino di musica c'è veramente quasi una musica per ogni luogo che visitate per ogni personaggio con cui parlate cioè a volte mi veniva da dire un po' too much frate nel senso stai calmo però effettivamente se pensiamo al fatto che ecco questo gioco è stato in sviluppo praticamente cinque anni e questi compositori magari hanno continuato a lavorare su determinate cose anche se il progetto era quasi morto fondamentalmente è molto più comprensibile questa cosa colonna sonora molto molto abile nel saper passare con molta facilità da uno stile all'altro appunto da un momento sognante ad uno più inquietante da uno più nostalgico ad uno invece molto più minaccioso quindi ottimo lavoro a tutti questa è la parte dove finisco di parlare di Omori come gioco fondamentalmente se dovessimo considerare solo questo in realtà Omori sarebbe un RPG medio discreto con un sistema di combattimento sì divertente appunto questa cosa delle emozioni ma in realtà questa stessa cosa delle emozioni una volta che hai in mente una strategia che funziona puoi semplicemente ripeterla all'infinito quindi è un tipo di gioco che non ti dà davvero una varietà un'evoluzione e alcune sezioni del gioco sono probabilmente troppo lunghe ad esempio la sezione del castello o una sezione che riguarda una balena chi avrà giocato il gioco capirà questa sezione della balena in particolare io mi sono ritrovato a farla molto molto velocemente non tanto per la zona insieme quanto più perché era una distrazione più che altro per quella che era la vera storia che in quel punto del gioco inizia a svilupparsi inizia a diventare sempre più grande ed è proprio questo di cui voglio parlare ora e il motivo fondamentalmente di questo video la storia di Omori Omori ha una storia molto molto forte di una forza che non mi aspettavo sinceramente proprio nelle tematiche un tipo di storia così tragico che raramente io vedo in film di oggi o anche solo in libri ad esempio Omori è fondamentalmente una storia sulle emozioni e sui ricordi in particolar modo sui ricordi su come ci aggrappiamo ad essi specialmente nel caso in cui la vita reale è dura difficile da sopportare e in particolar modo se noi associamo la vita reale a un qualcosa di estremamente negativo e addirittura traumatico quindi Omori è un gioco sul chiudersi in se stesso sul negare anche la vita reale la parola Omori deriva da Ikikomori un termine giapponese per descrivere un tipo di persone che decide di chiudersi in casa chiudere tutti i contatti con il mondo reale e magari ecco farsi arrivare il cibo via posta comunicare più o meno solo tramite internet e il computer questo in realtà è un fenomeno molto molto comune in Giappone persone che appunto decidono di chiudere tutto chiudere tutti i rapporti con il mondo ed è in realtà qualcosa che sta iniziando a nascere anche se ovviamente in scala molto minore però anche in Italia e soprattutto era una cosa che stava nascendo già prima della pandemia quindi capite ora il senso del discorso dove voglio arrivare cosa c'è di più contemporaneo di questo la storia di una persona che si chiude in se stessa perché non riesce perché riesce con estrema difficoltà ad affrontare il mondo attorno a lui ripeto in questo caso in via metaforica ma fisicamente è quello che stiamo vivendo tutti noi in questo momento ovviamente in maniera differente e con implicazioni completamente differenti e ovviamente non voglio dire che Omoket la creatrice del gioco abbia pensato al gioco con questa finalità ripeto lei aveva concepito il personaggio nel 2011 tra l'altro affermandogli averlo concepito già come gioco quindi era un'idea che era nell'aria già da molto tempo ma potete capire come probabilmente il fatto che sia uscito in questo periodo particolare è uscito nel dicembre 25 dicembre 2020 tra l'altro ecco il giorno potremmo dire più importante per quanto riguarda i ricordi positivi che ognuno di noi può e non può avere è innegabile non fare questo collegamento ovvero che il gioco abbia avuto un impatto ancora più forte proprio perché è uscito in questo periodo storico in particolare e questo non lo dico io lo dice il fatto che il gioco ha avuto un impatto sui suoi fan veramente enorme basta che cerchiate Omori su Instagram e oltre alla pagina ufficiale vi usciranno 10.000 disegni di personaggi del gioco in qualsiasi contesto appunto perché l'amore dei fan verso questi personaggi è tale che si è venuto a creare un vero e proprio attaccamento verso questa ideologia attaccamento cerco di dirlo nella maniera più positiva del termine anche se è un termine usato solitamente in maniera negativa e il gioco è uscito da 4 mesi il gioco non è uscito da anni come ad esempio Echo Undertale il gioco è uscito da 4 mesi è un gioco che è bello prima ho detto una cosa ovvero che i personaggi sembrano molto generici questa cosa che all'inizio avevo percepito come un malus per me successivamente è diventato un bonus ovvero i personaggi non sono generici sono delle tipologie di personaggi ma sono delle tipologie di personaggi così forti e che noi conosciamo così bene perché sono appunto dei tipi di persone che noi possiamo aver incontrato per tutta la vita che appunto diventa estremamente facile per noi proiettare i nostri stessi ricordi positivi e anche quelli negativi su questi personaggi quindi vivere in un certo senso in simbiosi con loro nel gioco stesso c'è una sezione che si ripete più volte con accezioni differenti di un album di fotografie sfogliare album di fotografie per accumulare riorganizzare o scoprire determinati ricordi e sinceramente per me ogni volta è stato molto molto forte è una delle sezioni che ricordo con più forza e con più calore dell'intero gioco appunto per il mio modo di proiettare determinati miei ricordi e determinati miei sentimenti verso queste determinate situazioni Omori riesce ad essere estremamente esplicito nei confronti di ciò di cui parla quindi sia le cose positive ma soprattutto le cose negative senza però mai essere didascalico senza mai farti la lezioncina o il volerti insegnare qualcosa insomma in un modo o nell'altro Omori è un racconto di formazione e è una cosa che io dissi anche con Undertale all'epoca un racconto di formazione per funzionare per saper sconfiggere il male tu il male lo devi conoscere tu il male anche solo per un secondo devi averne paura devi esserne sopraffatto è una cosa che in Undertale succede praticamente solo nell'ultima ora di gioco nell'ultime fasi qui invece in Omori è tutto il gioco tu conosci la paura la paura specifica di questo personaggio appunto per questo la storia funziona così tanto perché tu la vivi letteralmente nella testa del protagonista e in questo modo quando il giocatore perché il giocatore può avere la scelta di affrontare direttamente questo male e sperare di superarlo oppure lasciarsene sopraffare e ignorarlo tentando di superarlo in questo modo appunto semplicemente mettendolo da parte la scelta verso questa particolare soluzione è lasciata puramente al giocatore il gioco infatti a finali multipli ognuno molto molto bello dipende però la vostra definizione di bello la mia definizione di molto bello è anche molto brutto nel senso di molto tragico di cose che succedono però sono sempre molto molto ben studiate quindi di nuovo complimenti a tutti quello che avete fatto questo gioco molto 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 Omori non è perfetto come vi ho detto questo bilancio tra gameplay e storia a volte non funziona completamente a volte vorreste fare più l'uno a volte vorreste fare più l'altro ma Omori è un gioco molto molto sentito si sente anche tutta in un certo senso questa difficoltà produttiva che ha avuto probabilmente anche parte di questa frustrazione di questa negatività che inevitabilmente la creatrice avrà non solo sentito ma anche ricevuto da fan arrabbiati giustamente secondo me parte di questa negatività è anche andata influire sulle parti ecco più negative nel gioco dal punto di vista di trama negative nel senso di più tragiche questo ovviamente è una mia supposizione ma forse ecco anche proprio per questo la storia il travaglio del protagonista del gioco è stato anche più sentito da questo punto di vista Omori era una storia che fondamentalmente doveva uscire doveva uscire doveva essere raccontata era una storia troppo forte per rimanere così ferma dove era e probabilmente la creatrice stessa sentiva questo bisogno probabilmente le persone che l'erano attorno capivano questa cosa capivano che era una storia troppo forte per essere lasciata lì in un angolo e doveva uscire e la reazione che hanno avuto i fan a questa storia penso che non possa esserci cosa migliore per un creativo da questo punto di vista i fan hanno avuto un ottimo risponso come ho detto e continueranno ad averlo dato che il gioco ha un port programmato per Switch quindi spero che l'amore nei confronti di questo gioco continuerà a nascere continuerà ad espandersi e sono molto molto contento per questo team e spero di vedere più o meno presto un loro prossimo lavoro quindi io in particolare vi consiglierei Omori sì è un gioco che probabilmente anzi senza probabilmente vi intristirà molto vi farà anche un po' cacare sotto ma vi lascerà qualcosa vi lascerà molto e è una cosa molto rara da trovare in questi giorni ciao